Fraude fiscale milionaria nel settore edile, sequestrati beni per 3 milioni di euro. Il gruppo della Guardia di Finanza di Giuliano, su disposizione del Tribunale Partenopeo, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per equivalente finalizzato alla confisca di beni nella disponibilità di una società cooperativa di Pozzuoli, operante nel settore edile che avrebbe messo in atto una complessa frode fiscale. Il provvedimento ha riguardato beni, tra cui un parco residenziale, due appartamenti, auto-orologi e oggetti di lusso del valore di circa 3 milioni di euro. In particolare, le fiamme gialle hanno riscontrato che i due amministratori si sarebbero serviti di un compiacente prestanome al sol fine di effettuare operazioni in totale evasione d'imposta, facendo quindi ricadere su una testa di legno ogni responsabilità. I finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ammontare imponibile, sottratto a tassazione, nonostante i soggetti coinvolti avessero volutamente distrutto la totalità delle scritture contabili e obbligatorie. Oltre 43 milioni di euro non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e oltre 9 milioni di euro di IVA. La società cooperativa, infatti, ha omesso di presentare le previste dichiarazioni fiscali per 5 annualità consecutive dal 2013 al 2017.